Qualche problema con la post-produzione delle tue foto? Nei tutorial che trovi in giro ti mostrano il fotoritocco su immagini di solito quasi perfette, ma cosa succede quando passi al ritocco di foto normali? In questa serie di tutorial ti mostro la post-produzione fotografica proprio su quelle immagini che ti mettono in difficoltà. Mandami le tue foto e io le ritocco! Oggi vediamo la post-produzione della fotografia di paesaggio di Luca. È un tramonto scattato ad Assisi. Luca si lamenta del fatto che non è riuscito a cogliere con sufficiente contrasto il primo piano. Vedi qua c'è una statua che è quella di San Francesco e che sembra peraltro guardare il tramonto. Nella realtà a mio avviso Luca ha fatto un bel lavoro adesso vediamo se le cose stanno veramente come sembra. Prima però metti un bel like a questo video, iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto, ma soprattutto schiaccia la campanella e attiva tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Come ricordi questa serie di video è sponsorizzata esclusivamente da me. Se vuoi darmi una mano e devi acquistare qualcosa, dai uno sguardo al mio negozio su Amazon. Ci sono tanti articoli, tutti commentati, che ho provato personalmente. Puoi acquistare tranquillo, evitando delusioni. A te non costa neanche un centesimo in più e darai una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando. Luca usa Luminar e dunque utilizzeremo questo software. Ho anche realizzato un corso completo su Luminar 4. Te lo linko nella descrizione qua sotto a prezzo scontato. Considera che ci sono un sacco di anteprime gratuite, per cui anche se non vuoi spendere neanche un euro, ti farai comunque un'idea di come funziona il corso senza neanche registrarti. Ti dicevo che a mio avviso Luca ha fatto un lavoro migliore di quello che crede per quello che riguarda l'esposizione e questa è la mia speranza, in quanto se fai caso sull'istogramma non abbiamo, Jay sulla tastiera per avere conferma di questo, delle zone eccessivamente sovraesposte, a parte ovviamente le parti proprio dove c'è il sole, e quindi tanto più di così non poteva esporre. La mia speranza ovviamente è che possiamo recuperare un po' di dettaglio nelle ombre, quindi nelle zone più scure, incrementando il livello dei neri e lo stesso dovrebbe essere possibile qua sui bianchi. Io non insisterei oltre questo, secondo me abbiamo anche già esagerato, perché qua la silhouette a mio avviso sta piuttosto bene. Jay sulla tastiera per togliere questa evidenziazione che non ci fa capire niente, vediamo un po' che cosa possiamo fare con Luminar. La prima cosa che tenterei è la carta dell'intelligenza artificiale, perché ce l'abbiamo ed è un peccato non usarla e noti anche tu come Luminar tiri fuori a mio avviso anche un pochino troppo il dettaglio che c'è qua nel paesaggio in basso e poi possiamo rendere questo cielo un capello più drammatico utilizzando lo Sky Enhancer. E ti faccio vedere la differenza soltanto con quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè nulla. Siamo passati da questa immagine dove si intuiva che c'era una statua lì sotto e siamo arrivati a questa. Ora il problema principale che io vedo invece in questa foto è legato all'inquadratura e principalmente al punto di ripresa, che a mio avviso deve essere un pochino più di qua sulla destra, in maniera tale da avere questo albero un po' più qui al margine, quindi aumentare la distanza tra l'albero e la statua, e in questo modo riempire un pochino meglio la composizione ed avere un'immagine più equilibrata. Possiamo però tentare di mettere a posto questo, intanto selezioniamo queste caselle per togliere le principali aberrazioni e proviamo a ritagliare questa immagine. Io la tenterei quadrata, che vedi che ci permette di avere un'inquadratura un tantino più equilibrata. È un peccato togliere questa parte di cielo, ma d'altra parte io non saprei che altro inventarmi, sinceramente. Forse possiamo anche stringerlo ancora un capello. L'orizzonte più o meno è dritto, quindi schiacciamo fatto. Torniamo ai nostri filtri essenziali. Andrei un attimo su Migliora Paesaggio e utilizzerei il cursore Alba Tramonto, che su questo genere di foto, vedi, ci aiuta in pochissimi secondi a fare un lavoro che, fatto con l'HSL, sarebbe senz'altro possibile, ma ci vorrebbe enormemente più tempo. Invece vedi, con un semplice cursore lo abbiamo messo a posto. Io mi sposterei anche nella sezione professionale sul gradiente regolabile, per abbassare un po' l'esposizione nella parte alta dell'immagine. Però, ti dico la verità, io non vorrei questo effetto qui, ma ti faccio vedere che farei questa cosa qua. Quindi alzerei molto questa sfumatura e la renderei anche più accentuata, aumentandone anche un pochino il contrasto. Schiacciamo fatto. Ti faccio vedere. Senza il gradiente, col gradiente. Forse possiamo posizionarlo leggermente meglio, facendo... ecco, così. Vediamo. Ok, decisamente meglio, vedi, non abbiamo più quella brutta linea qua in mezzo. L'altra cosa che possiamo fare è, nel contrasto avanzato, sempre nella sezione professionale, incrementare il contrasto delle ombre. E adesso l'ho incrementato in maniera sicuramente molto elevata. Ecco, farei una cosa di questo genere. Vedi che però il cielo l'abbiamo un po' rovinato, per cui andiamo sulla maschera e proviamo a fare una maschera a gradiente, che è un tantino più semplice. Ecco che è fatta più o meno così. Schiacciamo fatto. Ti faccio vedere la differenza. Vedi, così è senza, così è con. Miglioriamo il contrasto qui sotto senza in nessun modo intervenire sul cielo. Vediamo dove siamo arrivati. Questa è la nostra immagine di partenza. Questo è il punto dove siamo arrivati finora. Io ti dico la verità, per questo genere di immagine mi fermerei a questo punto. Ti voglio far vedere che su Luminar nei filtri creativi abbiamo questo filtro qua che si chiama raggi solari. Potrebbe farti paura, ma vediamo un po' se riusciamo a usarlo in maniera decente. Aumentiamo il valore a un livello dissennato e posizioniamo il sole dove andrebbe, ovvero esattamente dove si trova. E schiacciamo fatto. A questo punto, dalle impostazioni avanzate, dobbiamo portare a zero il raggio del sole, perché c'è già nella nostra inquadratura, quindi non ha senso aggiungerne uno finto. Dobbiamo evidentemente diminuire il valore. Non voglio diminuirlo subito e voglio farti anche vedere il perché. L'aspetto generale, vedi, sbiatisce un po' l'immagine, che è una cosa che secondo me ci torna comoda. E l'altra cosa che dobbiamo variare è il numero dei raggi che abbasserei. E poi con il randomizza, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di più simpatico. Ecco, per esempio, questo qua, che adesso andiamo a sistemare, qui hai questi due cursori che sono tradotti male, evidentemente, e quello che devi alterare è questo, che cambia il calore dei raggi solari, questo cambia il calore del bagliore. Quindi, in realtà, nel nostro caso, non fa nulla perché abbiamo tolto il sole. Non so per quale motivo sono tradotti così male. A questo punto dobbiamo solamente minimizzare il valore e portarlo, vedi, ad un livello appena accennato. E in questo modo, te lo faccio vedere senza l'effetto e con l'effetto, abbiamo un risultato magari non tanto percettibile, ma sicuramente molto naturale, che arricchisce un pochino il cielo, ma non stravolge un tramonto e un cielo che già è molto molto bello, molto molto elaborato, non avrebbe senso esagerare con gli effetti. Visto il tema della foto e il luogo, proverei senz'altro il filtro mistico, che sembra veramente fatto apposta, anche qui, se esageri, è drammatico, ma se invece ci vai veramente cauto, riesci in qualche modo a prenderti cura anche di questa nitidezza non di certo esagerata dell'immagine, che possiamo anche, volendo, mettere a posto con un capello di struttura. Ecco qua, giusto per dare una sensazione di maggiore nitidezza all'immagine. Ti dirò che secondo me abbiamo un po' esagerato col valore. Facciamo ecco così. Io mi riterrei sinceramente soddisfatto e se vuoi perdere tempo, nei filtri creativi, c'è questa possibilità del cielo aumentato, che se tu ci aggiungi una quantità, così può essere ragionevole, possiamo anche posizionarli in maniera un tantino più accattivante rispetto alla nostra immagine. Ecco qua, invio sulla tastiera. Io non amo particolarmente questo genere di effetto, te lo sto mostrando semplicemente perché è una possibilità che recentemente Luminar ha introdotto e per alcune persone che amano questo genere di modifica può essere una grande comodità perché, hai visto, in pochissimi secondi abbiamo inserito un dettaglio sul cielo che sicuramente arricchisce l'inquadratura, ma, ti ripeto, non è il modo che preferisco di fare post-produzione. In ogni caso, questa è la nostra immagine originale e questo è il risultato a cui siamo giunti. Saltando gli ultimi passaggi avremmo ottenuto una post-produzione molto più classica e che avresti potuto realizzare con qualunque altro software. Se vuoi partecipare anche tu a questa mia iniziativa e inviarmi le tue foto, devi andare su questa pagina del mio sito, il link lo trovi nella descrizione qua sotto, leggi attentamente le istruzioni, compila questo form, seleziona questa casella, è estremamente importante perché se non lo fai non potrò utilizzare le tue foto, dunque è inutile che me le invii, schiaccia voglio partecipare e in pochi minuti riceverai una mail con tutte le istruzioni. Mandami la tua foto corredata da un breve video di presentazione nel quale mi spieghi qual è la difficoltà che hai incontrato in post-produzione e qual è l'atmosfera che invece volevi creare, quella che hai vissuto al momento dello scatto. Questo video non è obbligatorio, ma darò priorità alle immagini che mi arriveranno corredate da questa breve presentazione. Seguimi su Instagram perché almeno tre volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato alla realizzazione di quello scatto. Iscriviti alla mia newsletter e non tenere tutte queste informazioni per te, condividi questo video e fai sapere ai tuoi amici di questa mia iniziativa. Ci vediamo presto!